Ehi tu! Sì, proprio tu che stai guardando questo video. Ti senti sola, intrappolata e senza la riuscita? Sei vittima di violenza e non sei a chi rivolgerti per chiedere aiuto? Ciao, io sono Cile Crua, ma oggi non sono qui per cantare. Io oggi sono qui per dirti che il coraggio lo tieni, devi solo cacciarlo. Sono qui per dirti che non esiste l'amore violento, né fisico né verbale. E' arrivato il momento di smetterla di giustificare determinate azioni. Chi ti ama ti rispetta, chi ti ama ti protegge. Sono qui per parlare a tutti voi e sensibilizzare l'argomento. Parliamo di violenza vera, quella che troppe sorelle, amiche, madri subiscono ogni giorno. Può sembrare lontana, ma è più vicina di quanto pensi. Forse conosci qualcuno che ne è vittima, forse sei proprio tu. Ma voglio dirti una cosa, non sei sola. A Napoli ci sono i CAB, i centri antiviolenza. Sono qui per ascoltarti, supportarti e aiutarti a rompere le catene della paura. Io so cosa significa affrontare difficoltà. La mia musica nasce anche da questo. E so quanto sia importante avere qualcuno che ti ascolta e ti sostiene. I CAB sono qui per te, non devi fare tutto da sola. Chi ama, parla, chiedi aiuto. È un tuo diritto vivere senza paura. Io lotto contro la violenza sulle donne. Tu, non restare in silenzio. Rivolgiti ai capi del Comune di Napoli, perché insieme siamo più forti. Io lotto è l'iniziativa promossa dall'assessorato alle varie opportunità del Comune di Napoli e finalizzata alla promozione dei centri antiviolenza, nata con l'intento di sensibilizzare le donne vittime di maltrontamenti a denuncere loro oppressori. I centri di ascolto possono darti un aiuto concreto anche solo con un consiglio. Fai sentire la tua voce. Chiama al 1522 o scrivici in chat.